è noto ad arezzo il circolo popolo della famiglia di santa maria ad arezzo e c'è un evento subito inaugurale il 6 ottobre che è un venerdì alle 20 45 all'etrusco hotel tornerà ad arezzo mario ad inolfi per presentare il libro o capiamo o moriamo di cosa si tratta dunque innanzitutto ad inolfi viene da noi per presentare questo questo circolo che si è creato il 6 di luglio scorso e noi cerchiamo di impegnarci per fare in modo che la famiglia ritorni centrale nella vita politica di questo paese perché come diceva giovanni paolo secondo la famiglia il prisma attraverso il quale si scompongono tutte le parti insomma della nostra società quindi noi ci impegniamo anche personalmente attivamente affinché questo possa essere realizzato e ad inolfi verrà da noi e ha raccolto subito questo invito ci aiuta e noi cerchiamo di impegnarci quindi invitiamo tutti a partecipare il 6 ottobre alle 20 45 alle truscotelle l'entrata è libera l'entrata è libera assolutamente vi prego di intervenire numerosi perché a breve ci saranno le elezioni dovrebbero esserci proprio entro credo marzo perché la legislatura scade quindi è una grande opportunità per questo paese anche per la nostra città grazie grazie